Antonio Marziale, garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Calabria, presenta nella Locri del suo libro Catapontismos, un evento promosso dal Rotary Club Anfisia di Roccella Ionica con i saluti del presidente, il dirigente Giovanni Pitteri, in una serata fortemente voluta dal professore scrittore Rocco Romeo. Durante la presentazione del suo libro Contro la pedofilia, Marziale ha lanciato un duro monito contro le attuali leggi italiane in materia di tutela dei minori e del consenso sessuale. Chi non conosce la pedofilia, ha detto, pensa che si tratti di un attimo, un abusino, ma non è così. La pedofilia uccide l'anima delle vittime, le ferisce per sempre. È una disamina che nasce da una esperienza personale che è quella della lotta alla pedofilia, alla pedopornografia e narra tutte le battaglie che ho fatto, ma che oggi devono appartenere a tutti. Sì, perché siamo in un momento storico in cui l'età dei bambini abusati si è abbassata sensibilmente, gli inquirenti hanno trovato fin anche filmati con bambini di otto mesi, e non ho sbagliato, non otto anni, parlo di otto mesi. Quindi è sempre più raccapricciante, più sono raccapriccianti i filmati, più costano, e quindi l'industria della pedopornografia è seconda soltanto al traffico d'armi e della droga, ma è uno dei mercati più floridi sulla pelle di questi bambini. La gente deve cominciare a togliere la testa da sotto la sabbia come gli istruzzi e collaborare perché non c'è bisogno di eroi, abbiamo bisogno di adulti consapevoli che affrontino questo crimine contro l'umanità a viso aperto e soprattutto sensibilizzino le istituzioni perché l'Italia è il paese a vocazione pedofila più grande del mondo, cioè vale a dire il paese dove la soglia anagrafica del consenso sessuale è 14 anni. E quindi bisogna lottare e questo libro si inserisce nel quadro di questa lotta. Senti, cacciamo un po' la curiosità ai nostri telespettatori. Catapontismos. Catapontismos era una tecnica di annegamento, che era una condanna a morte di fatto, ed era praticamente la persona che veniva imputata di essere pedofila o che faceva violenze contro le donne e veniva invitato a legarsi una macina da mulino al collo e gettarsi negli abissi del mare. Era un'ordalia perché in questo modo non lo condannavano a morte, ma dicevano se tu sei innocente Dio ti salverà, se tu anneghi vuol dire che eri colpevole. Ed era la tecnica greco-romana che si richiama un po', ma non un po', si richiama tanto a quello che ha detto Gesù. Chiunque di voi scandalizzi anche uno solo di questi bambini, meglio per lui che si leghi una macina da mulino al collo e si getti nel profondo degli abissi. Ricordo quando presentai il mio libro nel 2020, poi c'è stato il Covid, ecco perché il ritardo di queste presentazioni, il questore di Reggio di allora, il dottor Vallone, vedendo la copertina mi ha detto che è un'istigazione a delinquere, gli ho detto che allora vada ad arrestare il colpevole, però credo che abbia 2023 anni, non so se lo trova ancora in giro. L'ultimissima cosa è il linguaggio, diciamo che è schietto e chiaro come poi di fatto parli tu in TV o chiunque con chi hai davanti. Ma bisogna essere chiari perché la gente deve sentirsi dire chiaramente che cos'è questo problema, perché se giriamo intorno a giri di parole, come per esempio una delle chiavi di lettura e di soluzione del problema potrebbe essere la consapevolizzazione di questi bambini, degli adolescenti, facendo educazione sessuale a scuola, però viviamo in un paese che ama sentirsi dire meglio l'educazione sentimentale. Io vorrei dire a queste persone che cos'è l'educazione sentimentale, che me lo spiegassero grammaticalmente, perché se c'è uno in grado di educare i sentimenti vuol dire che è il padre eterno, parliamo di educazione sessuale.